Yari Carrisi, la sua scelta particolare, basta, ho deciso. Yari Carrisi, il figlio di Albano Carrisi e Romina Power ha voluto annunciare una decisione molto particolare ai suoi fan sui social Yari Carrisi, conosciuto principalmente per essere il figlio di Romina Power e Albano Carrisi, ha voluto condividere con i fan una sua scelta Yari spesso e volentieri appare nei canali social anche della madre, persona a cui è davvero molto legato Yari Carrisi, conosciuto principalmente per essere il figlio di Romina Power e Albano Carrisi, ha voluto condividere con i fan una sua scelta Yari spesso e volentieri appare nei canali social anche della madre, persona a cui è davvero molto legato Yari Carrisi, la decisione è presa. Nelle scorse ore Yari Carrisi ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram una stories molto particolare, in cui fa un vero e proprio annuncio a tutti i suoi fan L'uomo ha un discreto seguito sui social, dove condivide varie esperienze di vita e messaggi per lui importanti Questa volta in una stories l'uomo si è ripreso mentre cammina a piedi nudi per in un sentiero, e ha scritto un commento sovrapposto alle immagini in cui ha specificato che ha deciso di andare a piedi fino in India Un commento che principalmente mette in luce il grande amore dell'uomo verso questo luogo così tanto spirituale, che a quanto pare ha un significato molto importante per lui Chiaramente sembra difficile che l'uomo possa mettere in atto una decisione davvero così particolare, e pare che sia stata in realtà una volontà di comunicare il suo desiderio Intanto molti si chiedono se abbia ripreso il suo rapporto con il padre Albano, che negli ultimi tempi a quanto pare era un po' in crisi L'uomo infatti aveva addirittura rimosso dai social i cognome del padre usando soltanto quello della madre, ma recentemente sembra che si sia riappropriato anche di quello paterno Di sicuro la sua famiglia ha affrontato varie vicissitudini importanti che hanno toccato anche gli ari profondamente Indimenticabile la questione riguardante la sorella Ilenia Carrisi, che purtroppo è scomparsa nel nulla molti anni fa, nel 1994 È ancora viva però nella mente del fratello e anche della madre la speranza che questa prima o poi possa essere ritrovata, e di poterla dunque riabbracciare Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti!